Un teatro, quello del Regina Margherita, gremito di studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia nissena in occasione della terza edizione del progetto Educazione alla legalità economica, patrocinato dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Ministero dell'Università e della Ricerca. La legalità è speranza e la speranza è il coraggio a cui tutti siamo chiamati a rispondere alla propria coscienza e il messaggio che si è voluto lanciare alle giovani generazioni. Un'occasione per stimolare in loro una maggiore consapevolezza del ruolo rivestito dalle fiamme gialle quale organo di polizia vicino ai cittadini e far maturare in loro la consapevolezza del valore della legalità economica. Riflettori puntati sul tema dei falsi invalidi tra gli argomenti affrontati nel corso della mattinata. Continua l'attenzione del corpo verso la legalità. Ormai questo è il terzo anno in cui su disposizioni del nostro Comando Generale cerchiamo di essere vicini ai ragazzi di tutte le scuole dell'intera provincia affinché possano anche dalla giovane età cogliere i principi fondamentali della legalità. È importante saperli anche insegnare e far capire che cosa significa crescere in un mondo dove le regole vengono da tutti quanti rispettate. A dare il suo contributo all'iniziativa anche il giornalista Salvo La Rosa noto conduttore della trasmissione Insieme e il cabarettista Salvatore Piccarra presente in città assieme a Picone per uno spettacolo. I giovani vanno coinvolti perché bisogna cominciare da loro quando si parla di educazione e quindi di crescita sociale e civile. Il programma lo ha stabilito la Guardia di Finanza, il comando provinciale di Caltanissetta e vedrà la regia appunto del capitano Sebastiano Rapisarda ma ringrazio anche il colonnello Sozzo per aver sposato in pieno questa iniziativa. Ci sono i ragazzi, ci saranno delle testimonianze, si parlerà oggi soprattutto di falsi invalidi che sono quelli che commettono un reato gravissimo e anche proprio brutto perché sottraggono con la truffa e con l'inganno soldi, strutture e aiuti invece a quelle persone che hanno davvero bisogno. La testimonianza di una ragazzina che si chiama Maria Teresa che è straordinaria che è una ragazzina che vive sulla sedia a rotelle ma che ha una forza, una passione meravigliosa e il suo appello e la sua testimonianza credo che valga più di qualsiasi altra attività anche se so che la Guardia di Finanza e lo sappiamo si sta adoperando molto quindi educazione alla legalità vuol dire educazione al rispetto, al vivere civile la legalità non è soltanto la lotta alla mafia che è fondamentale ma è educare la gente, i ragazzi, tutti al rispetto di tutte le regole che ci sono quotidianamente nella vita.